Credo che la fiction e in generale le immagini diano un contributo fortissimo alla comprensione della storia, soprattutto della storia almeno a partire dal Novecento, che è fatta anche di immagini. Le immagini sono un documento importantissimo e del Novecento noi abbiamo una storia per immagini, che è una storia anche del quotidiano, della vita comune, oltre che dei grandi avvenimenti storici più o meno riportati. Questo non vuol dire che le immagini siano di per sé un documento, ma certo ci consegnano la forma di uno sguardo, dello sguardo che una certa epoca ha dato su se stessa o l'immagine che ha voluto dare di se stessa e tutto questo funziona anche come archivio che viene utilizzato nelle grandi ricostruzioni storiche che fanno anche le fiction televisive. Una serie secondo me molto interessante, una miniserie, è Carlos di Olivia Sayas. È in realtà un ibrido perché è una serie televisiva ma anche un film molto lungo ed è dedicato a questa sorta di terrorista internazionale che è stato Carlos e riesce veramente a tradurre la tempesta di un momento, di un tempo, il costituirsi anche di un'idea di terrorismo che ingloba al suo interno diversi paesi, diversi interessi, come se in quegli anni, che sono poi gli anni 70, si costituisse una pratica anche di intervento internazionale che è diventata importantissima dopo. e lo fa poi con questo ritmo quasi da epica romanzesca che è molto interessante, molto bello. Io credo che dia benissimo lo spaccato di quell'epoca. Il mio intervento si concentrava su un caso che è quasi archeologia della serie che è Heimat di Edgar Reitz che è dell'inizio degli anni 80 ed è questo grande affresco sulla storia tedesca e che ha la particolarità di essere il racconto di una storia minore in un momento perché abbraccia almeno il primo ciclo di Heimat, gli anni che vanno dalla fine della prima guerra mondiale fino agli anni 80, attraversa quindi il momento nero, il buco assoluto della storia tedesca che è quello della seconda guerra mondiale, del nazismo, dell'olocausto e lo fa però a partire da un punto di vista marginale, la storia della piccola gente, come se quel punto di vista ci consegnasse uno spaccato importantissimo per comprendere e redimere anche una storia irredimibile come quella dei tedeschi e del loro passato nazista.